Non possiamo negare che ogni uomo è abbastanza ricco, ma di desideri. Quando abbiamo appetito si desidera mangiare e perché no anche bene. Quando fa freddo si desidera una casa calda e vestiti di lana. Quando si studia si desiderano bei voti a scuola perché chissà domani posso avere il posto subito. Ho accennato ad alcuni desideri dell'uomo, ma ci sono altri desideri, ugualmente buoni in se stessi. Ma è necessario impegnarli non solo per il bene della propria famiglia e di se stessa, ma per il bene della società. Possiamo citare quelli che derivano dal carattere, dalla formazione già ricevuta. Quando ci accorgiamo che il desiderio scavalca i principi della moralità e del vangelo, dobbiamo cominciare a riflettere se questi desideri sono convacenti alla nostra vita di onestà oppure no. Perché è facile scantonare negli idoli falsi ed è bene precisare che nulla vieta che il lavoro aumenti la nostra ricchezza, sia per i figli, sia progresso per la famiglia e perché no per lo sviluppo della società locale. Padre Pio, notando che era un povero e che era povero di professione oltre che di realtà, notando lo sviluppo della zona di San Giovanni Rotondo, zona molto arretrata, diceva «Sono proprio contento, adesso il paese comincia a girare il soldo». Quindi Padre Pio, l'uomo povero, gioisce che il popolo comincia a tenere i soldi, perché il soldo non è negativo. Magari è il nostro impegno, i nostri desideri che possono essere negativi, ma i soldi sono buoni, perché senza soldi, c'è il proverbio classico, non si cantano messe, non si fa nulla. È opportuno far presente che il peccato contro il settimo e il decimo comandamento si presenta molto diversificato. Altro è una rapina a mano armato e altro prende in ufficio o su posto di lavoro una penna a birra stupida in se stesso o un altro oggetto insignificante. Una delle piaghe che tormenta la società di oggi è l'usura. Teniamo presente che gli usurai sono i veri assassini dei poveri. Pur di far soldi non guardano in faccia al povero che chiede il prestito e pur piangendo sono costretti a prendere quei soldi in prestito. I veri assassini sono gli usurai, i fallimenti. E poi ci sono dei desideri che sono anche una forma di peccato, desiderare che il commerciante collega faccia fallimento perché così il suo negozio possa progredire. E pensare all'avvocato che fa addormentare le cause perché poi deve chiedere di più e così di seguito. Ci sono tante forme in cui può essere forma di usura per chi non rispetta la legge, ma non rispetta neppure l'amore fraterno.